Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Mertens. Mertens. Ecco Mertens che... Oh, barata notevole, non era facile. Va dai, no? E non va troppo per il sottile. C'è il tiro! Il filza al portiere! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. E quando si fanno questi regali non ci si può aspettare un risultato diverso a gol. Zelinski ha approfittato di uno svarione difensivo ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza.